Chiude il reparto di chirurgia Polla per carenza di medici e ancora una volta la Cisla a denunciare la gravità della situazione a Luigi Curto. Le attività di ricovero sia urgenti che elettive infatti sono state sospese con provvedimento del direttore sanitario, ultimo tassello di una ben nota penuria di personale medico che affligge quasi tutti i reparti del nosocomio. I delegati sindacali della Cisla FP Salerno del Presidio di Polla, Antonio Cervone, Gianfranco Climaco e Giuseppe Procaccio, hanno scritto ai vertici dell'Asl di Salerno per chiedere un'urgente risoluzione della problematica e il ripristino di un servizio essenziale per la comunità locale già ampiamente provata da oltre due anni di pandemia che ha ritardato numerose prestazioni sanitarie ed interventi chirurgici. Assistiamo ciclicamente, si legge nella lettera, monologhi compromesse di potenziamento dei servizi e del personale per poi constatare un continuo impoverimento del Presidio di Polla che, bene ricordare, ricade in un'area geograficamente disagiata e così non si fa che alimentare la migrazione sanitaria anche fuori regione. I rappresentanti sindacali definiscono la gestione approssimativa e senza programmazione, lamentano l'abbandono delle istituzioni che si occupano, dicono, di problematiche non urgenti come recentemente le postazioni dell'emergenza anziché della cronica carenza di personale e si dicono preoccupati per la tenuta dell'intero sistema sanitario locale a partire dall'integrità psicofisica dei lavoratori di nuovo chiamati a far fronte alle carenze di organico nonché per i cittadini che vedono venir meno l'accesso alle cure. Sul problema è intervenuto anche Pietro Antonacchio, capo Dipartimento Sanità per la Cisle FP di Salerno. Per lui è un paradosso che la chiusura delle attività sia stata decisa dal direttore sanitario del Presidio senza condividerla o indirizzarla per conoscenza né al direttore generale dell'Asla di Salerno né a quello sanitario. La direzione strategica, denuncia Antonacchio, non è stata coinvolta in una faccenda così grave ed importante.